Ciao ragazzi, oggi è il valore della scoperta. Sentiamo cosa ci dice. Il valore della scoperta è frutto della conoscenza congiunta a se stessa. Il significato è quindi quello di andare così in profondità nella conoscenza di se stessi e del mondo circostante da scoprirne l'essenza nascosta. Ogni scoperta aggiunge una tessera di verità al mosaico dell'esistenza, squarciando il velo dell'ignoranza con un raggio di luce improvvisa. Suono, nasco dalla profondità dell'essere fino a svelarne il mistero. Luce, guardo le cose lontane da vicino. Colore, sono il risultato dell'esperienza. Vibrazione, trovo la via di uscita perforando il buio. Azione, svelo la luce che mi mostra il nuovo. Ed ecco qua il valore della conoscenza, come vedete, la stella a cinque punte con dentro altre due stelle, sempre a cinque punte. Sappiamo che la stella a cinque punte è costruita sulla serie di Fibonacci, cioè sul modulo della sezione aurea, che è 1,618. Dunque è la stella della conoscenza superiore, quella aurea, quella che i saggi e gli antichi conoscevano bene. Dunque scoprire è andare all'interno della sostanza stessa, della materia e scoprirne i segreti, attraverso la sapienza e la saggezza aurea. Comprendete il senso della scoperta? Spero proprio di sì. Dunque, su animaribele.org trovate tutti i simboli dei valori e su fraternity.it trovate il modo di conoscere come utilizzarli al meglio. Sì, sì, sì.